Buonasera a tutti, ci siamo! Il negozio apre ufficialmente oggi, come vi ho detto che eravamo impossibilitati a fare la festa, perché la festa sarebbe assembramento, così noi come faremo l'apertura del primo negozio di Jill Cooper? La facciamo in modo virtuale e facciamo in questa orretta di diretta, noi faremo delle interviste con le persone di economia, collaboratori stretti e vi andremo a spiegare che cos'è il mondo Jill Cooper. Allora, come potete vedere qua abbiamo tutto il lato integrazione, dietro di me c'è il lato Be Good, perché è un altro partner nostro, ovviamente il trampolino non potrebbe mancare, ma non è solo questo, perché abbiamo Quantarius Life, abbiamo Ed Abremo, tantissime cose, tutta la mia nuova linea di creme che vi stavo spiegando ieri e per oggi potrete anche trovare tutti questi prodotti online www.cosport.com. Allora, se volete farmi delle domande durante questa diretta, c'è la mia assistente che me lo dirà in tempo reale, se ci sono proprio le domande che sono specifiche su quelle che stiamo per andare a affrontare. Allora, vi faccio un piccolo giro virtuale, abbiamo abbigliamento intelligente, un abbigliamento che ti aiuta a Dermafibra Cosmetics a drenare, trampolino ovviamente e anche altri trezoginici che sono parte del mio mondo, io non posso dire che possiamo fare solo integrazione o solo vestirci, tutto serve, non c'è soltanto una singola cosa, ma abbiamo anche il body system che sono tools, abbiamo il Dermaroller, abbiamo la Cosmesi e abbiamo l'integrazione. Perché mi piace l'integrazione? Perché integra là dove il nostro corpo non sta al massimo, ok? Non è una sostituzione, l'integrazione esattamente come il nome indica, integrazione. Ma adesso vi devo salutare, le nostre proteine all'inizio. Le proteine, facevo il gelato con le sue proteine perché erano proteine che si scioglievano. Era una proteina isolata particolarmente solubile, si scioglieva benissimo. Venivano a spuma meglio di quelle americani, era una cosa, poi le tue barette. Avremo anche le barette qua, ma ti dico di ogni volta che le vedo, leo dammi una barette di cocco perché innanzitutto era zona, era zona, non aveva conservanti, era tutta italiana e tuttora ne vendiamo tante di quelle, sembra rimasta la stessa, sembra la stessa barretta. Allora fammela vedere qua, che aspetti stiamo aspettando? Cioè aspetta, scusate ragazzi, applaudiamo perché vogliamo le barette di file manager. Allora andiamo, fammi cambiare poco a poco la nostra inquadratura perché andiamo a spiegare che c'è qua. Allora innanzitutto a volte troverai me, dubito la troverai lui perché se lui sta qui non sta producendo questo. Dentro il laboratorio. Però vi vogliamo innanzitutto farvi capire il nostro mondo dell'integrazione perché io e Leonardo, in quanto tempo ci passiamo al telefono inventando roba? Passiamo parecchio tempo al telefono e la cosa bella è che Gili mi ha accompagnato negli anni perché questa dell'integrazione per me è stata un'avventura, tu lo sai che è nata un po' per una sfida quando ancora non si parlava di integratori in Italia. Io ricordo che a casa di Gili rimasi abbastanza colpito perché già vent'anni fa nello scaffale di Gili c'erano tanti integratori. I green food, i vitamine C, delle cose che prendevo negli Stati Uniti. Esatto, e li portavi in Italia. Li portavi in Italia, sì. E poi diciamo alla tua passata, perché tu quanti farmacie avevi? Due farmacie, abbiamo ancora in famiglia varie farmacie, ma in realtà il nostro ormai da tanti anni il mio lavoro è questo. Corpo mio. No, non è solo corpo mio, è corpo anche di altre persone, però ho dato la mia... La mia passione è proprio formulare e non integratore. E che formule? Allora, io voglio tornare su questo fatto del formule. Ok, innanzitutto, ritorniamo su, perché io stavo spiegando anche l'altro giorno, l'importanza di integrazione che è trattato con le filiere farmaceutiche. Ascoltate, l'integrazione non è farmacia, non è un medicinale, ma andiamo a spiegare la differenza tra un integratore alimentare qualsiasi e un integratore che segue una percentuale certa di principi attivi. Allora, diciamo che nel mondo dell'integrazione purtroppo c'è molta confusione. Molto spesso le persone non sanno cosa prendere, cosa acquistare e qual è il prodotto giusto per loro. Noi abbiamo un approccio molto particolare, cioè vogliamo che l'effetto ci sia, che l'effetto nutrizionale sia sempre lo stesso. Per fare questo dobbiamo standardizzare, cioè fare sempre uguale il prodotto. Per esempio, per quanto riguarda il caffè verde, noi sul caffè verde abbiamo vari tipi, ce ne abbiamo molti di caffè verde sul mercato in Italia, però noi abbiamo scelto un caffè verde che avesse il principio attivo che poi funziona veramente, concentrato sembra uguale al 50% in acido clorogenico che è proprio la sostanza che fa. Fa riattivare il metabolismo. Esatto. Ok, molti di voi, allora voglio sempre ritornare su questo, che molte persone pensano, voglio perdere peso e cominciano a dire faccio la dieta, oh lo faccio la dieta, ma il problema è dieta, potrebbe avere un effetto boomerang, infatti se non lo fate con proprio un nutrizionista che fa sì, che non abbassi troppo l'introiti, se tu fai una cosa che fai da te, rischi di abbassare il metabolismo basale. Ok? Che cosa succede? A quel punto il corpo entra in allarme, riduce il metabolismo ulteriormente, dice oh cielo qua stiamo morendo di ecarestia, aumenta la fame, perché ti trovi, c'è verso, oh, boomerang, a terzo o quinto giorno ti trovi che stai per mangiare tutto il frigorifero ed in più il corpo trattiene il grasso, perché il grasso è l'ultima spiaggia. Invece noi che cosa facciamo con un caffè verde? Noi andiamo, grazie all'acido clorogenico, e andiamo subito, caffè verde che è un caffè acerbo che non è stato tostato, quante caffeina c'è? C'era pochissima perché è proprio l'acido clorogenico che dopo la tostatura si trasforma in caffeina, poi ricordiamo un'altra cosa, l'acido clorogenico oltre ad un'azione sul metabolismo degli zuccheri, quindi riduce un po' l'adipe, il grasso eccetera, ha un'azione antiossidante importantissima, perché è una molecola antiossidante, una bomba di antiossidante ragazzi, perché qual è l'altro problema? Allora facciamo a caso che tu vieni qua e non solo, io voglio anche dire un'altra cosa, tutto quello che noi vi stiamo spiegando i nostri ragazzi che lavorano qua, i beauty trainer che lavorano qua, ti possono rispondere a queste domande, ti possono aiutarti anche a consigliare, perché noi i potenziatori metabolici abbiamo glicofen che è una formula sinergica fatta dal dottor Leonardo Scanzano, è una formula sinergica ragazzi, dammi due secondi e vi lo spiego, abbiamo Easy Slim, abbiamo Carnetina, abbiamo Capi Verdi Power, Garcinia Cambogia, Forscolina e Mela Slim e Maca, sono tutti potenziatori di metabolismo, è uno, entra e va, e quale devo prendere? Quale devo prendere? Mi spiego, ognuno ha un'azione diversa e agisce su diversi livelli di metabolismo, di sistemi dentro il vostro corpo e per questo è importante avere consulenze, cioè le persone che entrano noi possiamo consultare così non lo fai fai da te. Ma tu hai centrato l'argomento, in effetti il problema più importante nell'approcciare il mondo dell'integrazione è avere il giusto consiglio, perché rischi o di buttare i soldi o di non avere l'effetto desiderato, andare in un posto dove riesci ad avere la giusta consulenza, a capire qual è l'integratore giusto per te, come un vestito su misura è fondamentale, infatti noi qui formiamo i personali e i personali per te lavori in maniera... Sono anche quelle che ti rispondono su internet e adesso poi fra poco io vorrei, tanto tanto questo è un sogno mio, adesso vediamo se riesce a mettere in atto, avere un call center, cioè abbiamo persone dove tu puoi chiamare e parlare con un beauty trainer, il beauty trainer ti aiuta a capire, ma adesso voglio andare oltre. Glicofen, che tra l'altro non mi ricordo stavo guardando uno spot pubblicitario giusto ieri, che parlava dell'estratto del foglio di olio, ci sono stata dove è venuta questa, però. Andiamo a parlare di formula sinergica. Allora, sinergia vuol dire che l'insieme di tutti i singoli prodotti diventano più potenti, ok. Quando noi parliamo di un prodotto sinergico che è Glicofen, tutto il mondo che è il nostro mondo di metodo, abbiamo altre, HP Plus, è sinergico, è sinergico, vuol dire che il tuo corpo fa una sorta di liste della spesa, cioè per esempio Glicofen, abbiamo ginema, te verde, l'olio europeina, abbiamo la carnosina, abbiamo una serie di sostanze importanti, Glicofen tra l'altro non nasce solamente per dimagrire, Glicofen nasce per ridurre il grasso viscerale, il grasso viscerale, quindi è un prodotto molto particolare. E la cosa interessante è che noi con Glicofen siamo andati a mimare un po' la natura, noi siamo abituati, noi quando mangiamo un frutto noi non prendiamo un solo prodotto, prendiamo un insieme di sostanze che sono quanto utenti nella natura. Il Glicofen ha questa concezione di formulazione, quindi noi abbiamo inserito all'interno di questo prodotto una serie di sostanze che avessero una sinergia d'azione. E questo vuol dire che il tuo corpo magari, perché cambia giorno a giorno, esattamente come ogni giorno non ti va di mangiare la bestecca e magari ti vuoi mangiare un piatto di pasta, il tuo corpo ogni giorno, correggimi se sbaglio, il tuo corpo magari oggi vuole più gimnema e un po' più di coenzima Q10. E domani no, aspetta, voglio un po' più di tè verde perché mi serve, perché il tuo corpo quando entra in contatto con una forma sinergica decide il tuo corpo oggi qual è il mix. E la cosa bella è che quando viene in contatto con queste molecole tutti i giorni decide lui che cosa serve oggi, corretto? È corretto, però è anche importante capire quello che dicevamo prima, l'utilizzo di sostanze, di principi attivi, di sostanze naturali che avessero una filiera molto controllata, innanzitutto una filiera in cui viene controllata la sostanza, la materia prima, per esempio la gimnema, dal momento in cui viene raccolta al momento in cui arriva nei nostri laboratori. Viene controllata la concentrazione di principio attivo e noi abbiamo in ogni lotto sempre lo stesso principio attivo, quindi il glicofer che compra oggi è uguale a quello che comprerà fra sei mesi e questo è fondamentale. Poi posso anche aggiungere su questa curcuma. Io voglio andare per curcuma e ce lo dico perché, perché ragazzi c'è stato un bomb, una bomba in internet sulla curcuma. Sì, perché infatti su internet c'è stata una vendita importante, esponenziale di curcuma, ma molto spesso la curcuma utilizzata non aveva valore. Non era controllata, era una curcuma alimentare che aveva pochissimo principio attivo. I curcuminoidi erano molto bassi. 3%. Qui abbiamo il 95% di curcumina, ragazzi, ed è micronizzata. Allora, qual è il problema della curcuma? È una grossa molecola che non è biodisponibile. E biodisponibile vuol dire passo. Perfetto, l'ho ingerito, ma l'ho passato perché non è stato assorbito dal corpo. Un'altra cosa che possiamo, perché è sinergica, che rende 2.000 volte di più biodisponibile la curcumina, la piperina, e noi l'abbiamo titolato al 98%. Ok, capito? Cioè, purtroppo, non voglio dire niente, ma, e poi c'è un'altra cosa, c'è un business, ok, c'è un business, ci sono tante persone che dice, beh, la curcuma va alla massima, andiamo a comprare gli spezie, le mettiamo nelle capsule e vendiamolo. È una cosa molto differente. È molto differente. E l'altra cosa, guardate qua, noi abbiamo un numero di telefono su ogni singolo flacone, c'è un numero di telefono che voi potete chiamare, e questo vuol dire reperibilità. Reperibilità. L'ho detto? Reperibilità. L'ho detto giusto! Reperibilità. Ma c'è un'altra cosa, adesso c'è anche un negozio fisico, e ci tengo di dire questo perché in internet, in internet, onestamente, dietro quei negozi su internet, avete visto la faccia? Cioè, se volete chiamare qualcuno, è possibile chiamare qualcuno. Se avete bisogno di bussare alla porta, ecco la porta. Tu adesso, non solo che avete la garanzia di GQ, di Leonardo Scanzano, che lavoriamo noi insieme da vent'anni. Nella tua azienda quanti anni ha? L'azienda del 97 praticamente, siamo partiti 23 anni fa, che siamo sul mercato. Però ci tengo a dire una cosa, che noi facciamo questo lavoro con amore. Cioè quello che facciamo, lo facciamo perché ci piace. Quindi quando facciamo, stiamo lì a fare... Siamo in conversa. La verità, ragazzi, voi non avete idea che quando ci chiamiamo magari ci stiamo parlando di una cosa, c'è una nuova molecola, conosci questo per l'appetito. La cosa divertente è che molti dei collaboratori che negli anni sono venuti a lavorare con noi, con me, hanno la stessa voglia di creare. Ieri sera stavamo creando una nuova Nutella, a basso indice glicerico, e ci siamo divertiti come matti, te la farò vedere. Vabbè, adesso è tentatore. Allora, io chiedo a Martina, adesso ragazzi, potete farci delle domande? Se volete farci domande, c'è Martina che sta qui e ci può lanciare le domande, che è vero che noi stiamo parlando, ma se volete inserire di qualcosa di più specifico, perché abbiamo potenziatori di metabolismo, che come abbiamo detto può cambiare, no? Perché se tu vedi da me, uno dei miei... cioè, il mio cuore sta con il capo verde, perché l'ho trovato per il metabolismo anche di persone di 70 anni, 77 anni, ha aumentato tantissimo il loro, come si chiama, metabolismo. Ma abbiamo molte persone che hanno problemi con il grasso viscerale. Allora, abbiamo detto che il glicofen è ottimo per il grasso viscerale. Diciamo anche perché il grasso viscerale è così pericoloso per il cuore e non solo. È pericoloso perché il grasso viscerale è quello che difficilmente riusciamo ad eliminare e tendenzialmente può essere dannoso per i nostri organi vitali. Quindi, alla fine, prendere qualcosa che ci aiuta a ridurre il grasso in eccesso è fondamentale. Dall'altro il glicofen nasce anche per ridurre gli effetti collaterali di una glicemia elevata. Quindi va molto bene proprio per eliminare gli effetti dannosi di una quantità di zucchero importante nel sangue. Perché le persone, oggi come oggi, la stragrande immaginata delle persone hanno un po', non sempre non è possibile, ognuno di voi siete singolari, ma a larga, larga, ampio spettro, tanti problemi con intolleranze, tanti problemi con resistenza all'insulina, che è il percursore di diabete di tipo 2, tanti problemi di resistenza alla leptina, che è una molecola che gestisce sia il metabolismo che il senso di fame, e tanti problemi con la microbioma. Allora, aspetta, abbiamo una domanda e non arrivo. Cerco qualcosa che mi aiuti a scendere di peso e con la cellulite. Allora, cellulite e peso. Allora, lì quando cominciamo a parlare di cellulite, se no noi andiamo subito al microcircolo. Andiamo, diciamo, sì. La cellulite intanto è una malattia e non si cura con l'integratore, questo è fondamentale. Però possiamo dare una mano al microcircolo che è importante per ridurre i rissutati, eccetera. Però chiedi ai nostri amici se è a forme di pera o di mela? Perché se è a forme di pera, io l'ho visto, ok, innanzitutto drenare. Allora, questo è un drenante che ha un'azione importante come attivatore del sistema linfatico. Quindi aiuta a drenare sia le tossine, a eliminare l'acqua in eccesso e a togliere praticamente i distanni di liquidi che sono importanti come causano la cellulite. Vieni Andrea. Allora scusate perché ragazzi è appena arrivato l'altro pezzo forte del nostro collaboratore Andrea Batti. Be good! Come stai? Ti dico Leonardo. Allora questi sono i due perni importantissimi del mio negozio perché abbiamo integrazione e tessile. tessile intelligente, cosmetto tessile, depositato in Francia come cosmetto tessile, giusto? Depositato in tutto il mondo, in realtà. Però il certificato è nato dall'europeo. Certificato europeo, sì. E che cos'è Be Good? Poi andremo anche a parlare di Be Good, ragazzi, perché quando venite in questo negozio ricordate sempre che non c'è una... stavamo proprio parlando sulla cellulite in questo momento. Be good bomba, be good bomba. Io sono, non so se riuscite a vedermi. Mi salto. Aspetta, devo allontanarti perché sono totalmente vestita. Be good. Ok, e quesce tessuto ovunque che sta toccando il mio corpo mi sta aiutando a drenare. Mi sta aiutando il liquido interstiziale, ok? A drenare e mi sta aiutando a migliorare la qualità della pelle perché era anche una cosmesi però in pro rosso raggio lontano. E questo agisce solo il moleco dell'acqua. Allora, se noi, perché non posso dire una singola cosa migliore nei necessitismi delle cellulite, ma un attacco combinato, sì. Allora, abbiamo parlato di un drenante. Abbiamo parlato del drenante, di lisi drenne, possiamo accennare al farmamen che ha all'interno delle sostanze che aiutano a ripristinare le pareti dei vasi, quindi ad evitare che l'acqua dall'interno dei vasi passa all'esterno e quindi crea questo ristaglio di liquidi e quindi che causa poi la cellulite. Questo prodotto è importante da questo punto. No, il farmamen è pazzesco, non solo per le vene, ragazzi, ma anche per le arterie. Microcircolo, plessoemoroidiale, mi dispiace, ma se tu hai partorito lo sai che questo potrebbe essere un problema. Memoria, perché il cervello ingorda di ossigeno, ama ossigeno, aiuta la memoria. Anche voi uomini, il farmamen per le vostre vene e le vostre arterie è molto importante perché aiuta a fortificare le pareti venose. E questo è molto importante. Non è un drenante il farmamen, è un potenziante del microcircolo. Ma poi se vado a prendere un bigood, che cosa fa il bigood? Che cosa fa questa infrarossa in raggio lontano? C'è l'interprese? Avete presente le nuvole? Quelle si chiamano adesioni molecolare. E che cosa fa? Piovere, di solito c'è una scrocchione di una scossa elettrica e poi scendono le gocceline, no? Perché è una questione sempre di chimica, di chimica stiamo parlando. E c'è una questione più che altro di qualcosa che disaggrega queste molecole e cominciano a piovere. Dentro il nostro corpo la ritenzione idrica è una nuvola, né più né meno. Ma è un problema che fa fatica di essere assorbito dal nostro microcircolo. Ecco quando entra bigood, perché qua dentro questo filato, scarica il mio filato? Scarica. Scarica? Cioè posso lavare via tutti i cristalli organici? No, assolutamente no. Mai. Mai. Mi mandano perenni. Mai. Cioè tu devi tagliarlo, dove non puoi neanche più metterlo addosso, che lui smette di lavorare con te. Dopo uno, mille, dieci mille, diciamo indossi. Questo è molto importante perché molti dicono, ah ma se mi finisce l'effetto poi che faccio? Non finisce l'effetto. Uno. Poi, questa che cosa fa questi cristalli? Si accendono come piccoli pietre diciamo oliari, si riscaldano e cominciano a vibrare a una frequenza che si chiama FIR, infrarosso e raggio lontano. Ok? Per questo si chiama bioinfrarosso. E derrofibra interagisce sulla nostra nuvola di ritenzione idrica amiche. E così ci aiuta innanzitutto da goccelloni di acqua così, fa le goccelline. A questo punto aumenta l'osmosi cellulare, aumenta le disintossicazioni. Immagini con le vene che stanno funzionando, l'acqua che diventa più piccola, bomba. Cioè stiamo parlando di bomba, forse mi odierete per la prima 5-7 giorni e mi comincerete a fare tante di quel pin-pin. Abbiamo risposto alla signora, quindi abbiamo consigliato il drenante, il drenante, il farlamen e il bigood come l'abbigliamento, il pantagone. E là in fondo c'è anche un trampolino, vedi quel gioiello là dietro? Ragazzi, movimento è, è movimento, perché movimento è vita, movimento è divertimento. E abbiamo la possibilità di mettere, quando tu vieni in questa piccola bottega, è una bottega che vorrei per il benessere a 360 gradi. Tante, tante, tante cose per aiutarvi, perché avete la possibilità di migliorare gli anestesismi delle cellulite. E poi spesso e volentieri, in un minuto che comincio a perdere i liquidi in accesso, vedrai anche cambiare il peso dei centimetri. Ci sono altre domande? Qualcosa che vedi a sgonfiare e non ti chiedo sempre a perdere. Allora, per il senso della fama è una garcina. Buonasera. Ciao, come stai? Ciao, buon alla. Ciao. Allora, abbiamo. Buonasera. Ci stiamo facendo una bellissima diretta. Ah, no, tranquilla, puoi dirvi, buon di sera. Non mi chiediamo, buon alla è scappata. Sono brutta. Il nostro ammurato è andato via. Sì, è fuori. Ragazzi potete entrare, stiamo facendo il diretto e non stiamo mordendo nessuno. Allora, i grassini a Cambogia è una molecola fortissima e sul Ministero delle Salute tre effetti positivi. Uno, metabolismo dei grassi, dei lipidi. Brucia i grassi. Come claim mi dice, metabolismo dei grassi. Dei lipidi, non dei grassi, dei lipidi. Aiuta il coadio, ma del metabolismo dei grassi. Dei grassi. Poi, equilibrio del peso corporeo, che vuol dire un rapporto tra massa grassa e massa magra. Metabolismo. E poi, il terzo è fame. Ragazzi, posso dirlo? Se uno spende uno di questi, demitichi di mangiare. Aiuta a togliere il senso di fame. Quindi, se uno lo prende a metà mattina o a metà pomeriggio, elimina quel senso di fame che può avere tra un passo e l'altro. Tra un passo e l'altro, però, anche fame nervoso. Poi, ricordate, volete la buona notizia e la cattiva notizia? Si ingrassa in inverno, ragazzi. Si ingrassa in inverno. No, siamo attaticamente programmati tutti. Per ingrassare durante i periodi divernati. Perché è come orsi bruni, ci prepariamo per, diciamo, ci prepariamo per lungo inverno. In inverno c'è meno, o c'era, meno cibo sugli alberi. Noi siamo programmati per incassare un chilo e mezzo, due chili durante l'inverno. C, si riduce il metabolismo, si mette un po' più di adipe per tenerci caldo, perché è come una termocoperta. E il fame aumenta per cercare cibo. Infatti, faccio il caso, c'è meno fame in estate. Invece, noi abbiamo la possibilità di migliorare anche la fame. Però, io vorrei anche adesso andare... Facciamo anche una po' di... Cioè, voglio far vedere di più anche qua, perché stiamo andando avanti. Aspetta, altre domande, vai. Tutti i cappi di guda hanno infrarossi? Poi rispondi tu, perché vado a prendere un po' di cappi, vai. Spieghi tu. Tutti i cappi di guda hanno infrarossi. In più, hanno anche delle microcapsule caricate con dei principi attivi, quali all'aloe vera, vitamina A, vitamina E e caffeina, che operano insieme agli infrarossi ad un'azione di drenaggio, di estimulazione microcircolazione, di idratazione e di rassodamento anche della pelle. E esistono anche sul grasso sottocutaglio, ragazzi. Anche sul grasso sottocutaglio. Dei caracci numero tre, a provarli, a vederli, ragazzi, perché c'è un'altra cosa di Be Good. Noi parliamo sempre del fatto che Be Good ti drena, ti migliori la qualità della pelle, perché noi abbiamo anche la maschera, con la dermofibra iuronica, con l'acido ialuronico e gli ioni d'oro che ti aiutano a migliorare proprio il tessuto della pelle stessa. Però la cosa bella di Be Good sono leggermente i contenitivi, tra gli questi che sono i nostri pigiama, i nostri lounge, e che vuol dire? Lo metti e ti fanno la gamma del red carpet. Cioè tu lo metti e fai e tutto sta a posto e ti senti a posto. Poi vanno alle lunghe a migliorare. Già dopo 90 minuti comincerai a fare diuresi. Potete poi, l'altra cosa molto importante, scattatemi le foto. Perché quando vi scattate le foto e lì vedi i miei prodotti come funzionano, perché tutti i miei prodotti sono attivi, altrimenti non sono qua. Perché per me non voglio perdere tempo, ok? Allora ragazzi, mi piacciono le nuove cose. Ci sono altre domande? A quando ci siamo ancora? Aspetta, vado a rimettere a posto un po' di Be Good. Carbone! Alessandro! Vieni, vieni a farti vedere che comunque c'è l'altro pezzo forte del lupo. Guarda quei uomini belli che mi sono circondata. Ecco, Alessandro Carbone è ovviamente colui che mette tutti insieme. Spiegaci il design del negozio, come tu hai deciso di fare il design del negozio. Che cosa ti ha ispirato? La vetrina era nera e quindi siccome i colori della vetrina erano neri, e qua c'avevamo già tutto il ruovere, praticamente ha comandato il nero della vetrina cercando di lavorare soltanto su due elementi naturali, che erano il legno e il ferro, che contraddistinguono che cosa? Poi la capacità di essere e di mettere sempre in evidenza il prodotto, che comunque quando entri deve essere visto, deve essere comunque... le persone devono avere la capacità di toccarlo, di viverlo, perché il negozio deve essere vissuto con i prodotti, non deve essere vissuto perché l'arredamento è fantastico, deve essere vissuto perché la gente ha bisogno di identificare quello che comunque uno vende. e noi abbiamo fatto questo format e speriamo che sia il primo di tanti e che abbia una sua logica e che sia ovviamente sposato e sposabile con i prodotti che abbiamo qui dentro. E speriamo, vedete tutti quanti nell'inquadratura, adesso vediamo se loro... Non puoi toccarti! Oh, ma... No, no, le spalle sì. Scusate, ragazzi, io siamo accasati, siamo accadati, io la posso tocare. Ma andremo un po' a toccare l'ora. Allora, ragazzi, oggi volevo fare con tutto il mio cuore una festa stasera e c'è il rischio veramente di fare un aggregamento molto molto abbondante perché siete tanti e ti vogliamo veramente bene tutti quanti. Questo non è stato fatto per un'equazione di rispetto ovviamente e anche rispetto alle regole perché ci hanno detto no aggregamenti, però ci tenevo tantissimo di avere loro e mia principale, diciamo, siamo collaboratori, non c'è... Ci pensiamo insieme, partner e facciamo tutto insieme. Adesso vediamo anche altri prodotti insieme. Ma io spero, tanto, 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 che questo non è l'unico, non è l'ultimo negozio. Questo è un inizio. Tante mi hanno detto oggi, ma Jill, sei emozionata? E ho detto, sì, sono emozionata, però per me oggi è una partenza, non è un punto di arrivo, non è che vi dirò adesso ormai, c'è il mio negozio. No, io vedo, e una visione, la mia visione è di avere un vero e proprio negozio dove è una persona che può entrare e trattarsi con rispetto. Perché ti posso garantire, in questi sette anni che io sono diventata una brand, da 2013 al 2020, grazie a loro, perché loro sono il numero uno del loro, diciamo, settore. Tessile, farmacia, abbiamo anche altre persone che lavorano su nanotecnologie, per la postura, io potrei andare avanti. però la mia visione è questa, che una persona viene qua e esce con reali, concreti soluzioni per vivere bene. Perché la vita non è essere magri, cioè la salute non è, ok, sono magra, va bene, tutto bene. No, abbiamo disintossicazione, che è importante, che il dermofibro mi aiuta a disintossicare il corpo, perché quando l'acqua diventa piccola e si chiama osmosi cellulare, porta nutrienti e porta via tossine. Questa è una cosa importante. L'integrazione non è per essere magri, per una piacevole conseguenza diventerai anche magro. Però quando io come gioco digerire bene perché c'è un quadro intero di enzimi O, le mie vene funzionano meglio, il mio sistema umanitario funziona bene, il mio metabolismo va a bomba e vado avanti, io veramente voglio sentire queste parole, prima o poi, da tutti i miei clienti, Jimmy ha cambiato la vita. La verità è che io non ti cambio la vita, la verità è che noi abbiamo tecnologie, sono una volta talmente all'avanguardia, possono ostentare o sfiorare l'incredibile, però noi abbiamo le scienze dietro di noi, abbiamo studio a doppio cieco, all'università di Cavia, vuol dire, ci sono persone che non sapevano se ce l'avevano, cioè non sono state condizionate, condizionati, cioè busto chiuso, provala, solo i ricercatori sapevano quelli che erano attivi o non attivi e questo è, si chiama il gold standard, il standard d'oro di qualsiasi studio scientifico. Possiamo andare avanti a vedere, poi se venite qua, i miei stati, tutti i miei beauty trainer avranno delle foto prima e dopo di Vigood, di Capiberde, di Garsini a Cambogia, di V2B, di persone anche di età avanzata che hanno cambiato da così a così. E l'altra cosa che volevo dire, siccome non posso, come ho già detto, non stiamo facendo la festa stasera, se andate su www.nowgcuber.com, chiedo se Martina mi puoi ribadire questo nel scrivere sotto, voi potete trovare su home page una, si chiama il negozio con Gil Cooper e potete prenotare per la prossima settimana 15 minuti con me qui, dove noi teniamo le distanze, nessun altro starà con te, ti posso rispondere alle tue domande e un'altra cosa, lo faccio anche virtualmente, se voi non siete a Roma, non potete venire a Roma, io con un video telefonato ti rispondo, ok? potete prenotare anche virtualmente una visita a questo negozio e piano piano che andremo avanti avremo sempre più questo servizio, non solo di me, ma mia beauty trainer, saranno in grado di risponderti. Be good, integrazione, quale misura che mi serve e che cosa che mi serve per avere di più della mia vita. Scusate, adesso sto dicendo. Migliorare la qualità della vita, il concetto è quello, quindi attraverso questi prodotti, attraverso questi indumenti, uno può migliorare la qualità della vita. Noi abbiamo coniato il termine, l'essere, perché curiamo la bellezza e anche il benessere. L'essere, perfetto. Io direi che il GIL è il design del benessere, è il design del benessere, è un design che ha deciso che tutte le persone possano stare meglio con se stesse e questo è un grande contributo che tu lo fai, non soltanto a livello lavorativo, ma proprio per passione. No, passione. Io proprio, ragazzi, sono fissato con questa roba e mi ricordo, vado là e studio e poi mi conoscisco e poi loro, tutti e tre, possono dire, sono un rompipalle? Sono un rompipalle, sono un rompipalle. Posso dire, mia, sei una rompipalle ma sei anche una fonda di ispirazione. Ah, confetto. E non sono uno che faccio facilmente complimenti, sembra perché... Lei stimola, lei stimola, lei stimola, lei stimola, lei stimola. Ti stimola continuamente. Lei stimola e noi facciamo un altro meglio per soddisfare. Ti soddisfare, poi qualche dritta riesco ogni tanto a... Allora, aspetta, arrivo. Apri e mi prendi i guanti e la maschera, per favore. Allora, andiamo a parlare di un altro fissa della Cooper, ok, perché la mia fissa, ragazzi, è dormire bene, ok, lo sai perché? Perché noi siamo programmati per dormire un terzo della nostra vita, otto ore dovrebbe essere sotto le pezze, se non riuscite a fare otto ore sotto le pezze, va bene, sette ore sotto le pezze è un, come si chiama, un pisolino, un power panichella. Si chiama dormire bispasico. Ok, perché durante la notte noi riproduciamo, cioè facciamo una sorta di pulizia generale, autofigia, sia del cervello, potatura sinaptica, andiamo a recuperare il cervello, mangiare le cellule quelle cattive e costruiamo muscoli e collagene, ok? Il problema è che molte persone non dormono profondamente, ok, perché sono stressati, tenete un televisore in camera vostra, ci sono i ritmi circadiani che sono legati a luce. Si va a dormire con il cellulare fino all'ultimo momento. La luce blu, eccoci qua, io odoro questo e ci uso tutta la sera questa maschera, perché non solo ha un filato di dermofibra con acido ialloronico e ioni di oro puro, di oro di zucchino qua dentro, che stimola il fibroblastio a produrre più collagene, così io mi faccio il trattamento di bellezza, ma la verità è che non mi fa passare la luce. E se io dormo tranquillamente così, non sarò svegliata neanche della micro, magari baglioni di luce o mi entra una luce dalla seranda, perché ti sveglia, perché quando le patrame cominciano a, veramente questo ci succede tutto l'arco della giornata, i nostri ritmi circadiani sono legati al sole e colore Kelvin della luce del sole. Così, mio consiglio per dormire molto profondamente sarebbe riprendere la maschera e prendere anche la nostra luce, perché l'altra cosa è dell'infrarosseraggio lontano e arrivano a circa 5 cm di profondità della nostra cute e rilassano la muscolatura. Cioè, molte persone hanno detto, ho ridotto anche addirittura i dolori mestruali bigori, dicono, io non ho più i crampi perché penetrano e riscaldano e aiutano anche proprio i processi vitali, infatti l'infrarosseraggio si chiama bioinfrarosseraggio perché è una cosa molto salutare, perché ci sono già stessi tracci di notte molto importanti e qui dove c'è la mia ganoderma, è il ganoderma, questo non è un sonifero, ti ricordi quando abbiamo parlato di questo? Perché amiamo ganoderma? Il ganoderma contiene un fungo, Reishi, contiene 50 polifenoli che erano sconosciuti prima della scoperta di questo fungo e che tra le varie azioni che hanno è quella proprio di rilassare il sistema nervoso, infatti si chiamava fungo della meditazione ed era una volta appannaggio solo degli imperatori cinesi. Si, si chiama anche fungo delle immortalità e io quando ero a Pekino ho visto questa bacchetta di plexiglass con questo fungo grosso e dice fungo dell'immortalità, ho detto datemi 5 kg, grazie. Ma che stiamo scherzando? E poi abbiamo parlato con lui e gli ho detto, oh Gil, ho trovato questo fungo? Ho detto, ma Leo, ho trovato anch'io un fungo? Lui mi fa, ganoderma, anch'io, Reishi? E poi alla fine... Si trova anche in Italia comunque, sugli alberi, su alcune quersce, non è la stessa qualità ma si trova. Adesso tutti che stanno fuori, ragazzi non andate a mangiare i funghi a cazzarci perché lui è un po' di prosecco, almeno loro possono blindare. Come no? Volete un prosecco? Adesso siamo con la mascherina. Volevo fare solamente un aggiunto sulla mascherina, che oltre all'acido ianuronico che è contenuto in questi particelli di oro. C'è anche la dermofibra, la bioceralica, quindi i cristalli organici che hanno una funzione di drenaggio, quindi vanno a lavorare anche sul drenaggio delle borse sotto gli occhi la mattina. Quindi come diceva giustamente Gil, è molto importante avere completamente lo sguardo oscurato durante le notte per poi dormire in maniera rilassata e le mascherine sono state inventate appositamente per i pilocci di volo e per i medici che facevano il giorno di notte, proprio perché il corpo ha bisogno di avere la giusta alternanza giorno e notte e quindi per poter dormire in maniera più rilassata, profonda, è molto importante anche questo. Noi cosa abbiamo fatto? Oltre a quello abbiamo inserito acido ianuronici, e cristalli inorganici che vanno a lavorare quindi a doppia funzione sul drenaggio anche del liquido che si forma diciamo. Perché ricordiamo che questi cristalli organici si riscaldano e interagiscono proprio con l'adesione molecolare, l'adesione molecolare passando da questi, quello che vi ho detto prima, nuvolone, goccioline, a quel punto più facile di drenare e passiamo anche alla novità, lancio oggi le mie creme che non sono tutti qua ancora perché stiamo ancora facendo gli ultimissimi test perché prima di mettere un prodotto in commercio deve essere testato per un mese per essere sicuri che alla portata ci sono dei tutti, però questi sono i miei best selli di tanto tempo. Abbiamo l'effetto snellente, questa è una crema da utilizzare sulla zona d'urto, per esempio è una snellente perché è una crema lipolitica, è una crema lipolitica vuol dire aiuta a stimolare il lascio di grassi, che poi va con un bigur, perché poi bigur delle fir di infrarossi a raggio lontano fanno scendere più in profondità i principi attivi, perché è una sorta di macchinario, una volta che lo metto comincia proprio ad attivarsi e ti aiuta proprio anche i principi attivi di scendere più in profondità. La mia amatissima bava di lumaca acido ialloronico, abbiamo cambiato la veste però sempre lui, ho cambiato semplicemente la veste grafica, questa è bava di lumaca, biologica, filtrata doppiamente, concentrato al 50% più acido ialloronico, effetto cicatrizzante, effetto riempolpante e poi immaginate di mettere la maschera, vedi tutto funziona insieme, cioè il mio mondo non è che io non ti posso dire un singolo prodotto funziona meglio dell'altro perché ogni persona è talmente singolare, poi questo è uno dei miei prodotti più pazzeschi, il crema collo, ci sono altre domande? Crema collo è una bomba, sono 150 ml di prodotto, non è un 30 ml, 50 ml perché io, mio cosmetologo Mirkili non sta qua con me, volevamo avere la certezza matematica che lo applichi affinché serve per anche le pelle più maturi, ok? Così è una grande quantità, io infatti abbiamo un collo anche per il nostro collo, non ce l'ho qua per farvi vedere, ma abbiamo anche un collo in dermofibra ialloronics e la cosa bella, immagini, metto questo, metto il collo, ragazzi, si può. Poi ci manca lo Skin Renew. Dove c'è Skin Renew? Non vedo. Eh no, vabbè, vabbè, questi sono altri due, la My Love, io sudo freddo quando non c'è Skin Renew. Lo Skin Renew in associazione con la bava di rubacchi, con la maschera? C'è, allora io sto già anche, farò, ve l'annuncio, ovviamente dovrò farlo con un team professionale, ma io farò un web series delle persone che verranno a questo negozio si raccontano su tutto, metabolismo, cellulite, anti-rughe, anti-invecchiamento e li seguiremo e vedremo in tot settimane, quattro settimane, otto settimane, dipende delle cose che dobbiamo affrontare e io sto per fare un web series dedicato proprio alle persone che cambiano, che voi potrete seguire sui miei social perché è quello che vi aiuta anche la casa è possibile, se ce l'ha fatto Maria, se ce l'ha fatta Marta, se l'ha fatta Francesca la posso fare io e l'altra cosa lancio anche adesso un appello. Se volete mettervi in gioco e fa parte di questa web series scrivete assistente chiocciolaconsport.com, la mia assistente comincerà a raccogliere le vostre richieste per accedere a questa opportunità di lavorare strettamente con me, con loro, prodotti di loro, con la mia palestra online per l'allenamento perché è un mondo, c'abbiamo integrazione, sessuti intelligenti, dormire meglio, allenarci al punto giusto, mangiare correttamente e vedrete tanti tanti risultati. Allora chiedo a Martina se puoi mettere il tuo indirizzo la sotto, la mia assistente e più o meno penso che un po' ci abbiamo spiegato il nostro mondo e lo chiamo il nostro mondo perché siamo partner e io lavoro con i massimi espedienti made in Italy, questa è un'altra cosa che ci tengo tantissimo, arriva a dire che made in Italy ha un valore, ha un valore immenso e io penso che io vivendo in Italia è solo giusto che io produco in Italia perché il lavoro deve rimanere in Italia per quanto mi riguarda, d'accordo e l'altra cosa è vero, magari può essere un prezzo un po' diverso ma ragazzi sono prodotti che sono diversi, con una qualità diversa e con l'efficacia che sfiorano, e non dico sfiorano i bisturi, sfiorano i bisturi, così non ho nulla contro il centro estetico, non ho nulla contro i chirurgi estetici a tutto rispetto, però prima di arrivare a quella, a quel livello c'è tanto da fare prima, che tu puoi portarti avanti prima a fare tanto di quei miglioramenti e poi ti dicono anche un'altra cosa, puoi anche ricorrere ai bisturi e poi per mantenere il corpo invecchia sempre, noi possiamo rallentare la velocità in cui si vede l'invecchiamento biologico e come lo facciamo? Trattandoci con costanza, è la costanza la chiave, se io costantemente faccio una cosa tutti i santi giorni, ecco perché io veramente non capisco come si può vestire inerte, non ha senso, non ha senso, io ho 52 anni, io voglio che la mia pelle rimani più giovane e più tempo possibile, arriverà il momento che mia pelle non è più d'accordo con me, ma io lotterò come una ninja finché arriva quel momento, no perché, solo la costanza, se io faccio 10 minuti di trampolino tutti i santi giorni e poi cosa succederò? Se io uso un integratore, magari per due mesi questo e poi cambio due mesi di questo, aggiungo questo, posso prendere anche più integratori insieme, il nostro lavoro è spiegarlo, ma la verità è che tutto è possibile, se inizi e quando siamo semplicemente, stiamo là, diciamo, mi piacerebbe migliorare le cellulite, mi piacerebbe fare queste cose, così non posso aiutarti, però vi invito veramente di venire e trovarci Piazza dei Caracci 3, Roma, siamo aperti da Milano, da lunedì, stiamo pensando Monday, se volete prenotare la vostra visita con me e poi andate su www.nowgcube.com e potete prenotare, quindi ci venite con me questa settimana e poi mi troverete qua, troverete una staff, diciamo, iperprofessionale che mi seguono e se c'è una domanda, mi scrivono, dicono, c'è qui Marta che vuole farti una domanda e io rispondo, tranne quando sono in televisione, se sono in televisione è un po' più complicato, e poi l'altra cosa è che siamo online, così, colsport.com per trovare tutti i prodotti e non abbiamo finito, così, se volete fare parte del nostro web series, scrivete a assistente chiocciola colsport.com venite a trovarci e grazie per la vostra attenzione a questo, aspettiamo, facciamo vedere tutto il negozio, che qui abbiamo la zona, c'è carbone, dove ci possiamo provare, qui abbiamo l'integrazione, lungo i muri vedete tutti i bigood che è là, abbiamo qui anche, da questa parte potete vedere la vitrine che è ripiena anche di promo pack, dove abbiamo le promo pack dedicate al fisico e a pera o altrimenti turbo diet plus, beauty, articolazioni, e un'altra cosa per l'articolazione è bigood, che aiuta a riscaldare l'articolazione e siamo qui per voi. Allora, grazie per la vostra cortesissima attenzione, vi salutiamo perché andiamo a rispondere, abbiamo un po' di persone qua fuori che vogliono chiacchierare con noi e grazie davvero per tutta la vostra attenzione e niente, dai, si parte. Arrivederci, ciao a tutti. Ciao a tutti. Vuoi venire qua? No, va bene. Allora, le mie ragazze un giorno facciamo un altro con la mia staff. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti.